Spettacolo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Uno spettacolo di Natale! Arriva Baro Village! Senti! Fireworks! Come ti chiami? Susanna Elisabeth Walker E lei come si chiama? Il mio nome? Beh, io ho tanti di nomi Tris Kringle, Santa Claus, Babbo Natale, San Nicola In Olanda sarei Sinterklaas In Portogallo invece Papai Noè Ho dovuto imparare molto libro perché io mi chiamano Più? Sinterklaas Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.